Reccoci insieme con Biancherosso TV Sport e con Alberto Savarese che il nome degli Ultras sta presentando in via embrionale perché ripeto poi la cosa andrà modellata, questo progetto di azione al lato popolare. Diciamo un segnale c'è, l'interesse della gente, l'interesse di tifosi di ogni angolo dello stadio e non? L'interesse è che ogni angolo della città, ieri sera mi trovavo per caso a largo 2 giugno, sono stato fermato da un gruppo di persone grandi, cioè di 50 anni, 60 anni con le mogli che appena mi hanno visto, a dire la verità ero in una pizzeria, su 30 tavoli che c'erano, 15 tavoli mi hanno chiesto spiegazioni, quindi mi sono avvicinato a 15 tavoli alla volta, sono entrato per vedere se c'era un amico, sono uscito dopo tre quarti d'ora, diciamo che non eri ancora passato da tre bari, i giornali oggi ne parlano infatti. Avevano saputo, perché ieri ne ha parlato il Corriere della Sera, oggi ne ha parlato il tuo, la gente legge i siti, va su Facebook, comunque si informano, le persone che hanno a cuore le sorti del bari, si informano e mi hanno chiesto dove possono andare, ma ieri mi hanno fermato 50 persone in quel ristorante, tutti che volevano sapere, con le mogli interessate, quindi c'è un cuore che batte, ancora, prima che si spenga del tutto e non facciamolo spegnere, non stacchiamo la spina, come qualcuno dice, meglio l'eccellenza di questa presidenza, sappiamo tutti che non si affacerebbe nessuno col fallimento, perché un fallimento che costa 5-6 milioni di euro e ce ne vogliono 100 per risalire in Serie B al punto in cui stai, chiunque spende 20 milioni di euro ora e non 100 nei prossimi dieci anni, per forza arrivare tra dieci anni, dove non è in Serie B. Gli step sono questi, giovedì abbiamo una grossa riunione, io ho chiesto aiuto, come dicevo prima, la professoressa Rinella, che però purtroppo non ha un posto disponibile per ospitare tante persone, se eravamo 300-350 l'altra sera, rischiamo di essere 600 la prossima volta, perché tutti quanti verranno con una proposta ulteriore, ci vorrebbe un teatro, un albergo, allora io ho chiesto a un noto albergo cittadino, perché martedì c'erano persone che venivano da Cerignola, da Locorotondo, da Alberobello, da Martina Franca, da Noci, da Putignano, dal Nord Barese, da Altamura, da Barletta dove c'è una colonna di tifosi del Bari, ma per dire da Spinazzola, Spinazzola è lontano, quindi devo fare in un posto che logisticamente deve essere facile per tutti e deve essere anche un posto nominato, dove è facile arrivare, solo che stamattina sono andato a chiedere in un noto albergo cittadino, che ha una sala che è modulabile da 300 fino a 800 posti, perché rischiamo di essere... Quanto costa? 1150 euro più IVA, allora siccome io, noi abbiamo già speso, io personalmente da stamattina avevo speso 30 euro di telefonate e 20 di benzina, non possiamo andare avanti così, ci vuole un fondo cassa, stiamo ragionando su questo, Luca Scandale mi sta dando una mano, oggi pomeriggio ho un incontro con lui, cioè praticamente la giornata inizia dalle 10 alla mattina e finirà alle 10 stasera, per i Bari, però non mi posso permettere di rimetterci ogni giorno, noi come club 50 euro al giorno non ce l'abbiamo. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Alberto, ciao Enzo, vi chiamo da Previso, quindi vi sto chiedendo tramite internet. Innanzitutto Enzo, complimenti per l'argomento, molto lodevole quest'oggi, davvero molto interessante. Io esprimo semplicemente la mia considerazione di tifoso, rispettando a prescindere tutto quello che si sta facendo, che comunque si è sempre lodevole fare qualcosa. Io sono un tifoso da oltre 15 anni e vi dico con molta sincerità come la penso io, che le ragioni perché Mattarese abbia disinvestito non le si sapranno mai o il Signore non ce li ha mai volute dire e questa cosa già onestamente a me mi dà fastidio perché lui si è nascosto nel suo silenzio e ci è stato praticamente per collare nel buio. Come ultima considerazione di trovare delle risorse esperti, quindi dei finanziatori che possono essere cittadini, tifosi o quel che si voglia, può essere anche interessante, però dobbiamo anche essere sinceri che se si parla di portare i libri in tribunale o si parla di fallimenti o chi ha visto parzialmente o ha visto tutte le carte ha fatto anche delle conclusioni che forse il buco è veramente pesante e quindi bisogna anche pensare che ci sono dei debiti da pagare e non solo il titolo sportivo. Io faria anche delle valutazioni diverse, una cosa soltanto, io ho seguito tutto quanto, io non mi spiego perché il Vicenza Calcio vale 3 milioni e mezzo di euro e il Bari ne vale più di 60, cioè a voi tutto il resto, vi ringrazio comunque e buon proseguimento. Grazie, grazie per il tuo intervento, questa è una delle tante domande che si fa un tifoso da casa. Se Livorno vuoto, scatola vuota, Livorno è una città, 100 mila abitanti forse quanto il quartiere San Paolo, vale 8 milioni di euro, Bari col bacino d'utenza che ha di un milione e mezzo di abitanti, potenziali che vanno allo stadio di uno stadio di 55 mila spettatori e non allo stadio di Vicenza o allo stadio di Livorno, vale 18 milioni di euro. Questa è la proporzione? Secondo me sì, se poi ne chiederanno 32, allora c'è sproporzione. Noi stiamo tentando di raccogliere qualcosa per dire ci siamo anche noi, è naturale che poi ogni settimana Enzo mi ospiterà e porterò i risultati, ogni settimana porterò dei risultati, vedremo quanto riusciremo a raccogliere, ma ci vorrà sempre l'intervento di qualche grosso imprenditore che prenderà atto del fatto dell'unità di intenti dei tifosi, prenderà atto che c'è un 20-25% già comprato e sosterrà pesantemente il progetto. Magari farà il salvatore della patria spendendo il 75% invece del 100% e comanderà lui perché con il 75% comanda comunque lui. E' quello che vogliamo attirare, noi vogliamo smuovere le acque perché soltanto noi lo possiamo fare, ci rendiamo conto, ci prendiamo quest'onere, però ho detto è una cosa molto difficile da portare in porto perché le difficoltà sono enormi, per cui bisogna andare a Corato dove si fa il vino, bisogna andare a Castel del Monte, bisogna andare a fare il cattolone 6x3, bisogna andare a Gioia del Colla a fare mozzarella, bisogna andare a Bitonto, a cima di Bitonto. Ciao Enzo, sono Vito Scavo, saluto ad Alberto e a te, sono veramente felice che cominciamo a fare qualcosa per il Bari e soprattutto molte volte su Facebook abbiamo anche spinto noi gli ultra, se non sono un ultra sono un tifoso comune, però la cosa che mi chiedo è questa cosa qui, se tutto dovesse andare fino in fondo per l'azionamento popolare, i matarese, cioè i debiti dei matarese che oggi il Bari ha, rimangono o chi li deve pagare questi debiti che abbiamo? Bene domande, domande concise e pertinenti, sono le stesse domande che hanno fatto l'altra sera l'avvocato Bigo, che hanno fatto l'altra sera, che faranno giovedì sera, giovedì prossimo, noi vogliamo sentire proposte, ascoltare, sentire domande e rispondere. La proposta che si farà è normale che i 18 milioni, i 20 milioni, i 22 milioni che riusciremo a raccogliere saranno per pagare il 90% del pacchetto azionario del Bari, quindi debiti e crediti sono della famiglia matarese, contenziosi col tribunale sono della famiglia matarese, è naturale che sia questo l'accordo perché il disavanzo di cassa in questo momento tra debiti della servizio sportiva e debiti dell'AS Bari è di, parole dell'avvocato Biga, 32 milioni di euro, i matarese sono disposti a recedere in qualcosa, ecco perché la città deve fare la proposta di almeno 18-20 milioni di euro che sembra congrua, anche confrontandomi con altre persone, non ho avuto ancora modo di incontrare la famiglia, perché Vincenzo Matarese non lo vedo da un anno e mezzo, da Natale di un anno e mezzo fa quando ci siamo fatti gli auguri, due anni fa quando ci siamo fatti gli auguri, quindi i referenti possono essere o Beppe il figlio o Antonio Matarese, ma avendo un contatto diretto con l'avvocato Biga sono sicuro che se riuscissimo ad offrire tutti quanti insieme 18 milioni di euro a scatola aperta, non chiusa, a scatola aperta, quindi con le azioni in mano, con la squadra, con quello che c'è, con quello che rimane della squadra naturale, se poi non si ha più un pulmo bisognerà comprare un pulmo, bisogna fare fronte, bisogna fare un piano industriale, bisogna coinvolgere le persone, ecco perché c'è bisogno dell'apporto di tutti, soprattutto per fare, perché un cartellone, se una sala di un albergo, un grande albergo costa 1.150.000 più IVA, e un mese di cartellone 6x3 costa 1000 euro, e bisogna farne 10 nei principali centri della provincia, i manifesti di 70-100 costano 50 centesimi l'uno e ce ne vogliono un'altra tante per andare ad affiggere, ci vogliono i soldi, ecco perché stiamo studiando un modo per dare possibilità a tutti di donare 2 euro, 4 euro, 10 euro, dipende da uno delle telefonate che fa, vogliamo fare come si fa per la solidarietà? Voglio riuscire a istituire un numero con un messaggio, chiunque dal telefonino può inviare 2 euro, perché sennò i 10 milioni che servono, certo perché i professionisti che io vado a contattare, che costano 40 euro l'ora, me ne chiedono 20 perché siamo noi, ma 20 euro me li chiedo, 10 euro di lavoro sono 10 euro di lavoro. Fermati un attimo, chiedo alla regia, andiamo in pubblicità o ci lasciamo con De Falco, perché poco fa ha parlato De Falco, De Falco alle nostre spalle, ha parlato poco fa al San Nicola, poi pausa pubblicitaria e ultima parte del Biancherosso di Sport.